Quali saranno le farm più utili e meno utili che si possono costruire in Minecraft? Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete qui abbiamo un nutrito elenco di tutte quante le farm che possiamo fare in Minecraft e oggi le andremo a classificare per importanza. Iniziamo perché sono davvero tantissime. Allora, abbiamo la farm di bambù. Secondo me è molto utile anche se non si può più fare con lo zero tick, ma serve per costruire gli scaffolding. Per gli amanti degli scaffolding, beh, è una farm davvero utile e i bambù si possono anche utilizzare per fare del carburante. Poi abbiamo la farm di basalto. Beh, il basalto sì, è utile, però lo possiamo anche recuperare, quindi andrei a un C. La farm di barbabietole. Bah, no, la farm di barbabietole direi no, anche perché se devo fare una farm faccio quella di carote o di patate. La farm di blades. Ci danno le blades, Rod, possiamo utilizzarle per poter fare le varie pozioni. Beh, una bella A ci sta, ci sta assolutamente. La farm di cactus. No, la classificherei tra le meno importanti. È vero, il cactus si può utilizzare come carburante per le fornaci, ma alla fine non ha questa grandissima utilità. Per quanto riguarda invece la farm di carote, direi di sì. Direi di sì e la possiamo classificare tranquillamente tra le più importanti, almeno per quanto riguarda gli ortaci. Poi abbiamo la farm di galline. Io l'ho utilizzata tantissimo e quindi la metterei al primo posto. Poi abbiamo la farm di chorus fruit. La metterei tranquillamente... Bah, qua. La metterei qua, anche perché ragazzi, io non l'ho mai utilizzato moltissimo. Non utilizzo molto questi blocchi che però dovrei rivalutare. La farm di cobblestone. Allora, molti di voi diranno, no, la farm di cobblestone tech è assolutamente importante. In realtà la cobblestone la recuperate a quantità industriali. Può servire all'inizio della vostra avventura, ma poi alla prima esplorazione in caverna ve ne troverete sicuramente un sacco di stack. E quindi non la metterei tanto importante. Sì, più del basalto, ma direi che a metà classifica ci sta. Poi abbiamo la farm di cacao. A meno che non siate amanti del colorante marrone o dei biscotti... Nah, no, 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 vai indietro, va qua. La farm di creeper. Almeno un secondo posto la metterei. È anche una farm piuttosto lunga da costruire. Magari ci sono anche dei metodi più semplici. Poi abbiamo la farm di membrana di phantom. Serve per poter riparare le litra, però se avete gli enchantment giusti... La mettiamo tra B perché mi sembra abbastanza utile. La farm di droned. Questa potrebbe essere classificata utile. La metterei tanto quanto quella di creeper. Allora, la farm di uova. Allora, sinceramente le uova a cosa possono servire? Per fare una torta, sì, però alla fine le avete mai utilizzate? Forse nelle Skywars per buttare giù qualcuno, ma alla fine in una vanilla non ce la metterei. Ultimo posto. La farm di pesca. Oh, qui dobbiamo fare un discorso importante. Perché fino alla 1.15 alcuni di voi avrebbero messo la farm di pesca al primo posto. Perché veniva utilizzata per recuperare tesori. Dopo che c'è stato l'aggiornamento alla 1.16, la farm di pesca è stata nerfata. Non si pescano più tesori. Anzi, qui ho saltato una farm, adesso la facciamo perché era talmente scura che non la vedevo. È quella di Enderman. La metterei qua, guardate ragazzi. È utile fino a un certo punto. Mi stavo dimenticando della farm di Enderman. Si vede pochissimo, giusto due pixel degli occhi. Assolutamente al primo posto, ragazzi. La farm di Enderman è utile sia per l'Ender Pearl, ma soprattutto è utile per l'esperienza. Sapete che nella mia serie la farm di Enderman è davvero importante per riparare gli oggetti, per fare nuovi enchantment. Quindi, primissimo posto nel modo più assoluto. La farm di fiori. Oddio, sì, sì, ok. I fiori coloranti, le cose... Al penultimo posto. Poi abbiamo la farm di Ghast, che ho, diciamo, non proprio efficientissima nel Nether. Ci dà le lacrime di Ghast, possiamo fare delle pozioni, però non è proprio così utile. Direi la metterei qua al terzo posto. Poi abbiamo la farm di oro, che va a pari passo con quella di Ghast. E, secondo me, la farm di oro ha acquisito un pochino più di importanza dopo che è stato aggiunto lo scambio con i Piglins. Quindi, forse la metterei qua. La farm di Guardiani. Ho... Nota dolente. Non ho una farm di Guardiani nel mio mondo. È molto complicata, più che altro non complicata, lunga da costruire. E, direi, al primo posto, perché quel tipo di blocchi che si possono fare con la farm di Guardiani, ragazzi, è davvero bellissima. E io mi dispiace di non averli ancora utilizzati. Quindi, la metterei qua, al primo posto. Poi abbiamo la farm di Oglings. Allora, secondo me, è utile, ma fino a un certo punto. Nel senso, vi spiego. Gli Oglings ci danno cibo. Se dovete arrivare nel Nether per prendere gli Oglings, probabilmente lo avete già. L'ho fatta, eh, questa farm, anche recentemente. Direi utile, ma non utilissima, perché purtroppo non si può fare in early game. Quindi, la metterei lì. La farm di Miele. Ok, qui ci sono due tipi, sia il Miele che i Fabi. Guardate, queste due le metto vicine. Le metto vicine, ragazzi. Sì, assolutamente. Le metto vicine a pari passo. Così, Miele e anche i Fabi, così potete fare anche altre arnie. Quindi, coltivare le api. A quel punto potete avere i blocchi, che sono molto utili per la Redstone. Quindi, le metterei al secondo posto. Farm di Ferro. Allora, io ho sempre rifiutato di farla farm di Ferro, perché, in un certo senso, mi impediva poi di dare una giustificazione alle varie esplorazioni che ho fatto nel mio mondo. Però, capisco che è una farm molto utile, perché il ferro lo utilizzate sempre. Quindi, gli darei un bel primo posto. Assolutamente sì. Mettiamola lì. Poi, la farm di Kelp. Non so se metterla qui o all'ultimo posto. Io la utilizzo davvero pochissimo. Vabbè, dai, perché ci sono i fiori lì, mettiamola in mezzo. Ma, non la vedo così utile. Poi abbiamo la farm di Magma Cube. In realtà, il Magma Cube non si usa tanto, quindi lo metterei qua. C, non è tanto utile. La farm di Meloni. La metterei qua. Ok, a pari passo con le carote. Voi direte, ma come? Sì, perché secondo me i Meloni... Ne ho utilizzati per un po'. E si possono anche utilizzare come blocchi non ammovibili. Insomma, si possono fare diverse cose. La farm di Mushroom. Allora, non ho mai trovato nella mia vanilla un'isola dei funghi. Ma l'avete chiesto davvero tantissime volte. Però, cosa possiamo fare? Le zuppe? Le zuppe occupano slot solo. Quindi vi occupa l'inventario. Ok, la metto qua. Però l'utilità è relativa. La Netherworld. Beh, se volete fare le pozioni, ragazzi, importante. Quindi la metterei sicuramente al secondo posto. Poi qui cosa abbiamo? La farm di Ossidiana. Ma si può fare ancora la farm di Ossidiana, ragazzi? No, la metterei in fondo, ragazzi. Non serve più l'Ossidiana. Una volta che avete fatto il portale, l'Ossidiana la prendete sicuramente con gli attrezzi. Quella di Piglings. Beh, quella di Piglings abbiamo messo l'oro lì. La mettiamo a pari passo. Assolutamente. Perché comunque, ragazzi, i Piglings ci danno anche degli scambi. Quindi ci può stare, ci può stare. La farm di Maiali. Ok. Il Maiale vi dà davvero tantissima, tantissima saturazione di cibo. Quindi, tra le farm di cibo, la metterei al primo posto. Patate. Beh, le patate abbiamo detto che sono abbastanza utili. Quindi le mettiamo insieme qua. La metterei qua anche le patate. Poi, per quanto riguarda queste qua... Alla fine, che cosa ve ne fate? Delle zucche con i semi? Beh, fate poco. La metterei qua in fondo. La farm con gli Illager. Eh, questa mi manca, eh. Questa mi manca, ragazzi. La farm di Illager. Forse qua la metterei, la farm di Illager. La useremmo così tanto? Sarebbe bello farla, sì. Però usarla... Farm di Scheletri. Assolutamente è utilissima perché vi dà esperienza, vi dà delle frecce, vi dà gli archi che, vabbè, potete anche volendo evitare. E soprattutto vi dà le ossa per il bone meal. Il bone meal si usa tantissimo se decorate. Ma anche se avete altre farm, quindi quelle sotto, tante farm che abbiamo visto sotto, dipendono dal bone meal. Quindi lo metterei al primo posto. Assolutamente al primo posto. La farm di Slime. Utile ma non utilissima. Dai, su via. La mettiamo qua. Dai, la mettiamo qua. La mettiamo qua. Poi, questo è uno spawner. Io penso che si intendano, in questo caso, tutte le farm fatte con gli spawner. E direi, ragazzi, che, visto che abbiamo messo la farm di Scheletri, lì ci metto anche la farm di spawner. Cioè, fatta con lo spawner. La farm di ragni. Penso che siano i ragni venenosi. Sì, ci danno le string, però che ce ne facciamo? Una volta che mi ha fatto l'arco e qualcos'altro. Dai, mettiamola qua, la farm di string. Dai, sì. La farm di Squid. Ragazzi, a parte il colorante, gli squid sono una delle cose più inutili e anche brutte, se devo essere sincero, di Minecraft. Perché muoiono lì sulla spiaggiati. Brutti, brutti. No, ultimo posto. Ultimo posto senza problemi. La farm di zucchero. No, qui ci siamo, eh. Qui, ragazzi. Allora, attenzione. La metto al primo posto. Vi spiego il perché. Non tanto per lo zucchero. Perché ci possiamo fare la carta. La carta serve per fare i libri. I libri ci facciamo gli incantesimi. Ma possiamo anche usare la carta per fare gli scambi con i villager. La farm di alberi. Beh, il legno è sempre molto, 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 molto utile in Minecraft. La mettiamo al primo posto. Anche se avere una farm forse non è proprio la cosa fondamentale. Però ci sta. Però ci sta. Farm di villager. Ragazzi, assolutamente primo posto. Poi abbiamo la farm di grano. Allora, ragazzi. C'è un discorso anche qui da fare. Sì, è vero. Col grano possiamo fare il pane. Però, oddio, lo usiamo così tanto il pane come cibo? Quando abbiamo magari le galline, quindi il pollo e il maiale? Nah. Quindi, sì, ci sta, ma non è così importante. La farm di streghe. Ragazzi, qua. Pecco perché non ce l'ho nella mia vanilla. E dà dei drop interessanti. La metto al primo posto. Sì, perché dà molte cose interessanti. Poi abbiamo la farm di weeder. Bella. Difficile da fare. Un po' complicata. Un po' traiardina da fare. Al primo posto? Beh, dai, sì. Se vogliamo fare delle sfide, ci sta, ci sta. Poi abbiamo la farm di lana. Allora, la lana una volta si utilizzava per le costruzioni, la lana colorata. Poi, quando è arrivata il calcestruzzo e quando è arrivata, quindi, la concrete, secondo me ha perso un pochino di interesse. Quindi, non la metterei neanche al secondo posto, lo lascerei al terzo posto. Perché alla fine, sì, ci si fanno le costruzioni, se fate magari delle pixel art, però considerate che la lana brucia. Quindi, forse è meglio utilizzare gli altri colori. E infine, la farm di zombie. Sono affezionato a questa farm, perché è una delle prime che ho fatto in Minecraft. Non la trovo utilissima, perché di esperienza ne prendete poca. Quindi la metterei... No, al primo posto no, ragazzi. Ci dà pochi drop e non tanto utili. La metterei al terzo posto. Ragazzi, abbiamo esaurito tutto quanto, ma mi piacerebbe anche sapere da voi cosa ne pensate. Quindi, nei commenti, ragazzi, scrivetemi se siete d'accordo e quali farm spostereste in un altro punto della classifica. E dunque, ragazzi, siamo giunti al termine di questo video. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, iscrivetevi al canale e passate anche in live su Twitch. Link, come sempre, in descrizione. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!